Ciao da Absim! Ci siamo dunque per Filip Kostic che non è stato convocato dall'Eintracht Frankfurt per la finale di UEFA Super Cup 2022 di oggi a Helsinki contro il Real Madrid proprio perché, ed è stato esplicitato il motivo nel comunicato ufficiale, è in accordo o è in trattativa, ma ormai è definito tutto, con un altro club non menzionato, è la Juventus chiaramente e quindi non è partito per Helsinki Kostic, non è partito per Torino ieri come se era vociferato, ma potrebbe farlo, dovrebbe farlo oggi e quindi sono in arrivo le visite mediche, poi la firma ed anche il primo allenamento. Fatta per Kostic, siamo in attesa in questo momento delle cifre definitive ufficiali, si parla comunque di 17 milioni di euro che dovrebbero essere 15 di parte fissa e 2 di bonus o forse 13 di parte fissa e 4 di bonus di cui un paio di milioni facilmente raggiungibili e gli altri due invece un po' più difficili. Quindi una cifra non elevatissima ma neanche del tutto bassa e dobbiamo anche considerare questo, cioè il tipo di calciatore che andiamo a prendere con un contratto triennale per Kostic che nei prossimi mesi, il primo novembre, compirà 30 anni, quindi un contratto triennale che lo vedrà incassare circa 3 milioni di euro a stagione netti. Questo dovrebbe essere la somma, questo dovrebbe essere lo stipendio che poi ballano anche dei bonus, forse 2 e mezzo, ma insomma non è uno stipendio anche qui elevatissimo ma anche qui non è neanche uno stipendio particolarmente basso. Lo stiamo vedendo quanto è difficile in questo periodo in questo momento storico del calciomercato vendere giocatori che hanno uno stipendio da 3 milioni a salire ed acquistare giocatori che hanno delle pretese piuttosto elevate. Su questo possiamo aggiungere anche Memphis Depay che a quanto si apprende avrebbe sparato molto alto come pretese dalla Juventus e quindi non è assolutamente detto che Depay sarà un nuovo giocatore della Juve e soprattutto che potrà esserlo nel giro di pochi giorni addirittura in questa settimana prima di Juventus Sassuolo per averlo subito a disposizione. Poi parlerò anche in un altro video del discorso di avere subito a disposizione e far giocare subito giocatori appena acquistati ci sarà uno zoom tattico su Kostic perché appunto Depay pare che abbia chiesto addirittura 9 milioni quindi più di quello che prende Pogba, più di quello che prende Vlaovic che tra l'altro sarebbe il titolare almeno per quello che si sta dicendo adesso ma appunto nel video tattico parlerò anche della questione fascia sinistra 4-3-3, 4-4-2 se vogliamo semplificare e parlare dei moduli. Qui parliamo del caso Kostic cioè quello che appunto dicevo. Kostic che rinuncia a giocare la finale di Supercoppa Europea che quando gli ricapita o forse la Juventus che pretende che il giocatore non disputi la partita o forse Lintracht stesso che per motivi anche di proprio vantaggio possiamo dire ipoteticamente suggerisce al giocatore di non scendere in campo o preferisce non portarlo con sé visto che sarebbe distratto da tutta questa situazione di calciomercato. Andiamo un po' a vedere quali sono state anche le dichiarazioni di Krösch che è il direttore sportivo dell'Eintracht e naturalmente di Glasner che è invece l'allenatore dell'Eintracht che si sono spesi soprattutto Glasner sia a margine della sconfitta contro il Bayern Monaco dello scorso weekend 6-1, veramente una sconfitta drammatica per l'Eintracht e una vittoria clamorosa per il Bayern all'esordio in Bundesliga sia naturalmente alla vigilia quindi ieri di questa finale europea che l'Eintracht ha acquisito il diritto di giocare vincendo l'Europa League con Kostic che è stato un giocatore chiave un giocatore fondamentale per l'Eintracht della scorsa stagione e nell'economia dell'Europa League quindi nella competizione Europa League anche se le premesse all'inizio della stagione 21-22 erano molto diverse e riguardo a Filippo Kostic anzi c'erano prospettive contrastanti che sono state ricordate dallo stesso Glasner ma anche da Krush o comunque dal club nel momento in cui Kostic si è trovato a poter scegliere a poter scegliere tra andarsene, restare fino alla scadenza o rinnovare il contratto per essere confermato un giocatore dell'Eintracht a tutti gli effetti, lui che ne ha indossato la maglia numero 10 e quindi è sicuramente stato in questa sua esperienza tedesca il giocatore, uno dei giocatori più rappresentativi del club Glasner infatti ha ricordato che Kostic la scorsa stagione all'inizio della scorsa stagione, cioè un'estate fa, voleva andarsene aveva già un contratto in scadenza 2023 come ce l'ha avuto fino a questo momento quindi non era prossimo alla scadenza però già si doveva iniziare a guardare al futuro, a programmare il futuro e si era quasi messo fuori rosa, era contrariato, non voleva partecipare voleva andarsene Glasner ha rivelato di avergli detto te ne vai ma te ne vai da eroe vattene da eroe dall'Eintracht e così è stato certo non è stato tutto costruito da Glasner è anche capitato che l'Eintracht sia riuscito a vincere l'Europa League però di fatto è stata una stagione molto positiva per il club e anche per Kostic quindi questa rivelazione però che cosa ci dice? che Kostic è anche un bel caratterino perché a un certo punto se ne voleva andare e se ne era impuntato di andarsene e era lì per lì era diciamo in procinto di di non essere professionale cosa che invece gli è stata riconosciuta dal direttore sportivo dell'Eintracht si è comportato in maniera assolutamente professionale non che potesse scegliere di non farlo perché aveva un contratto però si era impuntato a un certo punto per andarsene quindi era in dubbio che Kostic potesse disputare una grande stagione come invece poi ha comunque fatto anche nell'Europa League e in generale per quella che è stata la stagione dell'Eintracht primo dato che dobbiamo registrare a livello emotivo a livello caratteriale del giocatore un altro aspetto che possiamo sottolineare è quello umano perché sia il direttore sportivo che l'allenatore dell'Eintracht hanno sottolineato come loro come club come filosofia del club non sono mai contrari alla partenza di giocatori che vogliono andarsene se l'offerta a livello finanziario soddisfa tutte le parti quindi se arriva un'offerta loro la valutano e fanno partire un giocatore anche se non è mai facile privarsi di giocatori e di uomini di rilievo questo l'ha sottolineato sia Kroosch che Glasner che addirittura ha parlato di saluti a Kostic con le lacrime agli occhi soprattutto per l'uomo che se ne va e quindi possiamo gioire come Juventini nel momento in cui apprendiamo questo perché se Kostic ha anche un caratterino però poi si fa rispettare e si fa voler bene e questo è importante in una squadra come la Juventus che deve ritrovare un gruppo e una solidità ma direi anche uno spogliatoio che è spaccato da anni e quindi i giocatori che stanno al loro posto che magari riescono anche a mettere insieme più componenti dello spogliatoio spaccato non possono che fare bene andando però sul discorso e poi chiudiamo anche con delle valutazioni appunto finanziarie economiche su questa operazione andando di più sul discorso non gioco la finale di Europa League vi sembrerà un dettaglio irrilevante ma a me è una cosa che interessa particolarmente mi sta particolarmente a cuore cercare di capire come sia possibile che sia andata così e quali sono state le componenti decisive vi premetto che non c'è una risposta proviamo semplicemente a ragionarci ognuno assumerà la posizione la lettura l'interpretazione che preferisce andando ad analizzare il fatto di fronte a cui siamo è questo Kostic poteva e doveva inizialmente partecipare alla finale di Super Cup perché tra l'altro Glasner dopo la sconfitta col Bayern aveva parlato di Kostic dicendo che non aveva fatto una grandissima partita ma non era al meglio e che sarebbe stato in migliori condizioni giocando titolare la finale di Super Cup quindi nella testa di Glasner allenatore Kostic stasera avrebbe dovuto giocare la finale di Super Cup quindi il dato di fatto è questo doveva giocarla poi al momento in cui ci sono state le convocazioni ieri per naturalmente consentire all'Eintracht di volare in direzione Helsinki per la partita Kostic era escluso e c'è stato questo comunicato quindi c'è stata una decisione delle ultime ore precedenti della vigilia della finale Kostic non partecipa questo per quale motivo che cosa ha portato ripeto un calciatore quasi trentenne a rinunciare ad un'occasione unica nella sua carriera non gli ricapiterà più molto probabilmente di giocare a una finale di Super Cup Europea e soprattutto qual è il motivo grave che lo porta a rinunciare in cosa si avvantaggia Kostic nel non disputare la partita che vantaggio ne trae lui che vantaggio ne trae la Juventus e che vantaggio ne trae l'Eintracht e quindi cerchiamo di capire quale può essere stato il motivo di questa scelta veramente clamorosa ne parlo ne parlo anche perché si va facile giù di sentimentalismi e di trionfalismi Kostic ama la Juventus senza averci mai giocato già innamorato della Juve che grande uomo che grande calciatore rinuncia alla finale di Super Cup per andare subito da Allegri sì è così ma davvero una lettura positiva di questa possiamo dare davvero una lettura positiva di questo episodio o è una cosa che ci può anche preoccupare dal punto di vista dell'ambizione di questo calciatore cioè non è strano che rinuncia a giocare la finale di Europa League perché ripeto non voglio vederci nulla di clamoroso è clamoroso ma non voglio vederci nulla di malizioso ecco semplicemente mi pongo la domanda e sarebbe utile forse che ce la ponessimo tutti quanti e quindi una prima ipotesi è che il calciatore non ha ambizione è un giocatore privo di ambizione o con scarsissima ambizione per cui invece di partire per Torino giovedì direttamente da Helsinki che non sarebbe cambiato praticamente nulla anche perché la Juve riprende gli allenamenti oggi e che costi ce ne salti uno davvero non cambia nulla e quindi non gli sarebbe cambiato nulla ripeto partire il giorno dopo e invece siccome ha scarsa ambizione non gliene frega di giocare la finale di Super Cup e magari di mettersi comunque una medaglia al collo d'oro o d'argento ma partecipare ad una partita fondamentale una partita importantissima a livello europeo perché si sfidano la vincitrice dell'Europa League e la vincitrice della Champions League preferisce non partecipare invece di giocare dice me ne vado a Torino alla Juve il prima possibile guadagnandoci cosa guadagnandoci cosa nulla perché ripeto che si alleni oggi ammesso che ce la fa ad allenarsi perché se deve venire oggi a fare visite mediche firma comunque non si allena voi direte allora è per evitare di saltare l'allenamento di domani beh capirai si sarebbe allenato venerdì sabato domenica non cambia tanto un giorno di allenamento un allenamento in più o in meno davvero non c'è un grosso vantaggio un grosso guadagno da parte di Kostic quindi se la decisione è stata veramente sua come una parte della juventinità dello juventinismo propongono beh non è tanto una cosa positiva perché siamo al cospetto di un giocatore che a scarsa ambizione cioè rinuncia a vincere un trofeo europeo poi magari vincerà il Real Madrid però tu almeno partecipi ad una finale che ripeto quando ti ricapita piovono battute su questo si è già adeguato Kostic al mondo Juve che i trofei europei non sa quali siano non sa dove dove siano a parte la bacheca che risale a 30 anni fa l'ultimo aggiornamento della bacheca proprio con la supercoppa europea che in realtà è stato il trofeo europeo tolto la coppa intertoto più recente che abbiamo vinto anche dopo perché era gennaio 97 anche dopo novembre 96 con la coppa intercontinentale e quindi a parte le battute però di fatto siamo al cospetto di un giocatore che perde o rinuncia l'opportunità di vincere il trofeo europeo questa è un'ipotesi poi c'è anche un'altra ipotesi che non c'entra nulla il calciatore non c'entra il discorso sull'ambizione di Kostic non è che non ha ambizione o che non non vuole vincere il trofeo ma magari c'entra a questo punto la Juventus la Juventus per evitare che Kostic potesse giocare la finale e magari infortunarsi ha convinto l'Aintracht e il calciatore ad anticipare questo trasferimento magari mettendoci qualche milione in più oppure sottoscrivendo delle condizioni economiche più vantaggiose per l'Aintracht della serie invece di pagarti in quattro esercizi o in tre esercizi ti pago in due faccio un'ipotesi questo poi magari lo potremo vedere con il comunicato ufficiale di trasferimento di Kostic dall'Aintracht alla Juventus nelle prossime ore quindi può essere che la Juve per convincere l'Aintracht a rinunciare a Kostic su cui facevano affidamento parole di Glasner di domenica di pochi giorni prima e per convincere il giocatore a rinunciare alla finale di Supercoppa con potenziale trofeo europeo ci abbia messo o più soldi o condizioni economiche più vantaggiose l'altra ipotesi è che comunque ci sia stata di mezzo la Juventus non tanto per un discorso di evitare al giocatore di disputare la partita e magari di infortunarsi e di questo poi dobbiamo anche parlare ma per evitare che il costo di Kostic potesse lievitare in caso di finale giocata particolarmente bene o magari anche di gol decisivo per la vittoria e a quel punto magari sarebbe saltato il banco sarebbe saltata la trattativa sarebbero state modificate le condizioni e il trasferimento sarebbe stato a rischio quindi io non dico che la Juve ha fatto bene o ha fatto male eventualmente ad intervenire a gamba tesa impedendo a Costes di giocare la finale supercoppa europea che è una cosa clamorosa semplicemente dico che faccio fatica a capire come sono andate realmente le cose può esserci la componente di scarsa ambizione del giocatore può esserci la componente pressing della Juventus per anticipare il trasferimento ma anche qui non ne vedo un vantaggio per la Juve se non evitare l'infortunio ed ecco parliamo anche di questo perché questa storia che bisogna evitare di far giocare o di far allenare un giocatore che stai per acquistare perché potrebbe farsi male lascia il tempo che trova voi capite perché allora vuol dire che tu devi sospendere l'attività agonistica di un giocatore perché lo stai acquistando e ma allora come lo compri prendete anche adesso Depay che fa non si allena più col Barcellona perché in trattativa con la Juve potrebbe infortunarsi perché non è detto che ti infortuni in partita tu ti puoi infortunare anche negli allenamenti quindi questa storia non deve giocare perché deve arrivare perché preferisce non infortunarsi vale fino ad un certo punto abbiamo visto De Ketelare che prima di trasferirsi al Milan ha saltato ma l'ultima partita quando ormai era già tutto praticamente fatto è diverso e non era la finale di Supercoppa Europea quindi io credo che Kostic non abbia avuto particolari vantaggi anzi nel fare questa scelta gli unici vantaggi potenziali sono per la Juventus perché comunque il giocatore non giocando non rischia di farsi male nella singola partita ma sarebbe cambiato poco perché comunque fino a ieri mattina si è comunque allenato con l'Eintracht e oggi a questo punto salta anche una giornata di allenamento o di partita perché comunque nel trasferimento alla Juve se ne parla domani di riprendere l'attività non puoi congelare un giocatore o metterlo sotto la sfera di cristallo per non farlo infortunare soltanto perché lo stai acquistando quindi vi sembrerà anche esagerato fare tutti questi ragionamenti da parte mia però davvero credo che sia una cosa molto importante perché non è mai capitato che un giocatore si trasferisse alla Juve e per farlo rinunciasse ad una finale europea ad un trofeo europeo che avrebbe potuto disputare in maniera innocua senza perderci veramente nulla quindi valeva la pena approfondire il discorso chiudendo però parliamo anche degli aspetti finanziari numeri alla mano dell'acquisto di Kostic da parte della Juventus le cifre ve le ho dette si parla di 17 milioni e 3 di stipendio vi ho già accennato qual è il problema se problema ci sarà o meglio il problema già c'è è potenziale ma già c'è e cioè che Kostic rischia di diventare l'ennesimo giocatore invendibile della Juventus o meglio diventa invendibile nel momento in cui le cose dovessero andare male e non lo sappiamo Kostic potrebbe nelle sue qualità di cui vi parlo nello specifico nel video di approfondimento tattico su Kostic che uscirà in giornata e quindi iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche potrebbe essere un giocatore chiave della Juventus potrebbe rendere molto bene potrebbe essere molto forte quindi nulla a questo lì il problema non si pone o forse sì perché avendogli offerto un triennale dopo che ti sei appena accorto cioè nel giro di un paio di stagioni perché una sola stagione non può bastare che Kostic è un giocatore molto valido sei già lì che devi discutere il rinnovo o rischiare di perderlo a zero quindi comunque non è un'operazione finanziariamente tanto vantaggiosa per la Juve guardando le cifre perché è invendibile perché un triennale ha 17 milioni facciamo 15 di parte fissa vuol dire che l'ammortamento è 5 milioni all'anno 5 milioni all'anno significa che dopo un anno se Kostic non ha funzionato non lo puoi vendere perché ha una quota d'ammortamento residua di 10 milioni e se l'hai pagato 15 e non rende nessuno te lo paga più di 10 ci siete? dopo due anni inizia ad essere vendibile perché con una residua quota d'ammortamento di ulteriori 5 milioni riesci comunque a piazzarlo al di sotto di 10 a patto che lo stipendio non risulti troppo alto per il futuro acquirente perché parliamo comunque di 3 milioni cioè quello che voglio dire è che stiamo andando a comprare un giocatore normale perché Kostic non è un calciatore straordinario è un calciatore normale bravo bravino tendenzialmente anche forte in certi contesti non stiamo andando a comprare i suoi assist di questo parlo a parte ma lo stiamo comprando alla cifra probabilmente limite cioè che siamo già al massimo possibile per il valore del giocatore per anche la sua anagrafica perché va a compiere 30 anni oltre che per la sua esperienza e qui voglio essere un pochino malizioso ma veramente poco poco vi siete chiesti come mai in tanti anni che Kostic ha giocato in Germania in Bundesliga il Bayern Monaco non l'abbia acquistato perché sappiamo bene che il Bayern Monaco acquista tutti ma veramente tutti i giocatori forti che sono in Bundesliga tranne rare eccezioni tipo Holland che è andato al Manchester City per il resto quelli veramente validi che gravitano per la Bundesliga prima o poi il Bayern se li compra o comunque ci fa un pensierino Kostic è arrivato a 30 anni e il Bayern non se l'è filato come mai? forse perché non è un giocatore top europeo è un giocatore normale ripeto non straordinario che può essere considerato anche simpatico bravo fidelizzato già per la Juve perché rinuncia alla finale di Supercoppa per venire a giocare alla Juventus o per non sprecare neanche un giorno d'allenamento al cospetto di un allenatore che concede giorni di riposo senza limiti e quindi già è un po' paradossale però resta un giocatore non top ecco quindi non possiamo pensare che Kostic risolva i problemi della Juventus diciamo che non crea ulteriori problemi questo sì al netto del fatto che qualsiasi calciatore crea il problema di dover essere gestito valorizzato e adattato perché ci devi lavorare come ha detto Glasner senza Kostic non cambieremo l'assetto tattico immediatamente quindi manterremo lo stesso assetto anche senza di lui in questa finale ma chiaramente dopo questa partita valuteremo se modificare l'assetto tattico perché il compito dell'allenatore è quello di trovare l'assetto migliore per la squadra quello che dovrebbe fare Allegri a prescindere da Kostic e che speriamo riuscirà a fare anche se siamo un pochino già delusi con le nostre basse aspettative sugli sviluppi tattici le idee e la proposta di calcio della Juventus con Allegri grazie per la vostra attenzione buon dibattito allora nei commenti perché Kostic ha rinunciato alla finale di Supercoppa Europea per venire prima possibile alla Juve di chi è la responsabilità e di chi sono i principali vantaggi si tratta di un grande acquisto o di un acquisto un po' problematico viste le cifre fatemi sapere come la pensate like al video intanto se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti compreso il video di approfondimento tattico su Filip Kostic e abbonatevi a partire da solo i 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi contenuti esclusivi sul mio server Discord tra cui le chat riservate agli abbonati chat YouTube live riservate come i post partita della Juventus che stanno tornando la programmazione quotidiana con orari argomenti dei nuovi video in uscita e tanto altro ci vediamo molto presto e sempre forza Juve